eccoci qua possiamo cominciare buonasera a tutti e benvenuti vi chiedo innanzitutto una cortesia mi fate un cenno un pollice alto mi vedete mi sentite bene ottimo perfetto vi ringrazio beh innanzitutto permettetevi permettetemi di farvi i complimenti 19 05 5 gennaio 94 persone collegate complimenti a voi a tutti gli ospiti che si sono collegati qui questa sera e che hanno deciso di investire parte di quello che il loro prezioso tempo per conoscere qualcosa di nuovo un nuovo progetto io vado a presentarmi molto velocemente sono matteo aguzzi ho 33 anni e sono collegato dalla provincia di milano io ho fatto per circa una decina di anni dipendente nel settore delle telecomunicazioni e ho iniziato ad affiancare questo business a quello che era il mio primo lavoro perché volevo qualche cosa di più inizialmente un'entrata extra a fine mese e poi si è rivelato effettivamente essere qualche cosa di più e questo business questa scelta mi ha aiutato in quella che inizialmente potevo vedere come una situazione un po complicata perché durante quello che è stato il primo lockdown a marzo del 2020 io ho perso il mio primo lavoro da dipendente perché era tutto bloccato era tutto fermo e l'azienda ha deciso di non rinnovare di non rinnovare rinnovarmi il contratto perdonatemi e proprio grazie a questa attività al fatto che già la stava affiancando mio business e che già stava andando bene ho potuto passare quel momento in assoluta tranquillità e oggi non potrei assolutamente essere più contento perché mi occupo esclusivamente di questo a 360 gradi e sono anche finalmente in grado di gestire veramente in maniera autonoma quello che è il mio tempo ma ora non voglio dilungarmi oltre non siamo qui per parlare di me questa sera e il motivo per il quale siamo qui collegati per il quale siete stati invitati è il fatto che vogliamo farvi conoscere quello che è il sistema che aiuta la nostra community a monetizzare grazie a quello che è il mondo dell'online quindi adesso andremo a vederlo insieme e solo per quelle persone che rimarranno collegate fino alla fine ci sarà la possibilità di conoscere la storia di una persona che sta già avendo grandi risultati grande successo in questo business e ci racconterà anche quelli che sono i suoi segreti quindi adesso vado a condividere con voi lo schermo e vediamo effettivamente cosa abbiamo scelto chi è l'azienda partner che utilizziamo oggi per monetizzare vi chiedo un cenno se si vede ottimo perfetto bene genesse chi è genesse è una multinazionale americana che è nata nel 2009 quella che vediamo qui nella slide è la casa madre ad Orlando in Florida perché l'abbiamo scelta beh innanzitutto perché in numeri in breve l'azienda dopo soli nove anni di vita è arrivata a fatturare pensate 1,46 miliardi di dollari all'anno era già da quattro anni consecutivi che è arrivata era arrivata a superare il miliardo di fatturato ci sono sei modi differenti per poter guadagnare e opera in oltre 145 mercati più per la precisione è arrivata ad essere presente in 160 paesi del mondo inoltre è anche considerata una vera e propria azienda record breaker perché ha ricevuto oltre 579 tra riconoscimenti e premi durante questi anni questi sono invece visivamente i paesi in cui noi possiamo operare oggi dove è presente l'azienda ma dove soprattutto noi grazie a quello che il mondo dell'online e anche l'utilizzo dei social possiamo creare collaborazioni in tempo zero con un semplice click questa invece la nostra fantastica famiglia la famiglia genesse i fondatori rendi e wendy che sono i cuori pulsanti dell'azienda che hanno fondato genesse con un un obiettivo molto nobile che è quello di poter aiutare più persone possibili nel mondo scott invece è il figlio visionario di wendy che ha portato l'azienda essere presente ormai in quasi tutto il mondo cosa dire poi invece del nostro fantastico comitato scientifico un comitato scientifico d'eccellenza all'avanguardia sono tutti esperti in quelli che sono gli ambiti legati al benessere e alla bellezza una menzione particolare sicuramente per il dottor Nathan Newman dottor Vincent Giampappa che hanno ricevuto numerosi riconoscimenti a livello internazionale ma ora vediamo insieme invece effettivamente l'azienda in quale mercato si va a inserire beh è il mercato multimiliardario della bellezza del benessere e della cura della pelle ora io ci tengo a precisare non siamo qui questa sera per parlare di prodotti non andremo a vedere a fondo questo poi eventualmente se vorrete ulteriori informazioni in merito chiedete tranquillamente materiale di approfondimento alla persona che vi ha invitato qui questa sera ci tengo anche a precisare che non facciamo vendite porta a porta cose di questo genere noi semplicemente utilizziamo l'azienda i prodotti per andare a monetizzare sul mercato grazie al modello del franchising online quindi facciamo una carrellata velocissima linea pelle capelli una linea che lavora dall'esterno con viso e corpo una linea integrazione che invece ci aiuta a favorire quello che è il nostro benessere dall'interno appunto interiore e una linea fitness zen body questa è stata creata e pensata da Mark McDonald che è considerato il personal trainer delle star di Hollywood bene questi integratori abbinati a una corretta alimentazione e al movimento fisico ci aiutano a mantenerci in forma questo invece è la linea di oli essenziali linea evoca un altro mercato miliardario e ultimo arrivato allo cleans gel disinfettante numero uno presente sul mercato oggi questo ci fa capire quanto l'azienda sia reattiva su quello che è la richiesta del mercato perché questo prodotto è stato lanciato dopo pochissimo tempo da quando era iniziata la pandemia a inizio 2020 ma ora come dicevo non siamo qui per parlare i prodotti siamo qui per parlare di business di quello che è l'opportunità legata alla nostra community a questo sistema come funziona bene immaginiamo di essere quelli al centro abbiamo sei modi diversi per poter guadagnare come dicevamo prima una di queste macro aree quella dell'acquisto da parte dei clienti che si possono collegare al nostro e-commerce personale che ci viene fornito fatto e finito dall'azienda accessibile con un semplice click da tutti i 160 paesi e tradotto pensate in già in inoltre 23 lingue diverse un cliente si collega acquista in totale autonomia noi non dobbiamo gestire ordini non dobbiamo fare magazzino non ci dobbiamo preoccupare delle spedizioni o quant'altro pensa a tutto l'azienda noi riceviamo una commissione che va dal 30 al 45 per cento su ogni singolo movimento la seconda macro area invece è quella legata all'affiliazione noi possiamo andare a creare delle collaborazioni collaborazioni con attività commerciali proviamo a pensare ad attività commerciali che possono essere interessate a veicolare sul mercato i prodotti che abbiamo visto prima quindi magari qualche semplice esempio può essere parrucchieri centri estetici centri benessere palestre bene noi andremo a guadagnare una percentuale su tutto quello che sono i loro movimenti in più possiamo creare collaborazioni con imprenditori o persone che vogliono diventare imprenditori digitali partendo assolutamente da zero perché dico partendo da zero perché il bello di questa attività è che non sono richieste competenze io venivo dal settore delle telecomunicazioni non sapevo assolutamente nulla di tutto questo ma la cosa bella è proprio il fatto che si viene presi per mano da quello che è il team la community che ci aiuta a crescere ci guida per raggiungere insieme quelli che sono i nostri obiettivi quindi seconda macro area dove qui abbiamo una percentuale di guadagno che va dal 5 al 10 per cento su tutto il fatturato globale e una volta compreso il sistema come si inizia beh innanzitutto abbiamo due step semplicissimi e fondamentali apertura della piattaforma con 32 euro e 15 abbiamo il nostro e-commerce personale fatto e finito front office dove si possono collegare i clienti back office il nostro sito interno che tiene tutto sotto controllo e monitorato e dove soprattutto possiamo vedere i nostri compensi i guadagni che ogni settimana avete capito bene ogni settimana l'azienda ci paga arrivano sul nostro wallet in maniera poi automatica vengono bonificati sul nostro conto corrente personale il secondo step per cominciare è scegliere uno starter kit un kit di partenza e qui l'azienda ci dà la possibilità di sceglierlo solo una volta quando iniziamo e ce ne mette due tipologie a disposizione abbiamo i kit prodotto per chi semplicemente vuole diventare un cliente quindi quelle persone che vogliono comprare una quantità di prodotto con uno sconto semplicemente per testarlo e qua i kit vanno dai 200 euro agli 800 euro poi invece abbiamo i kit business quei kit per chi vuole fare su serio quei kit per chi vuole diventare un imprenditore digitale a tutti gli effetti sbloccare tutti i metodi di guadagno tutti i bonus e qui i pacchetti vanno dai 1000 euro ai 3000 euro poi qui io vi do un suggerimento chiedete consiglio alla persona che vi ha invitato qui questa sera su quale può essere il kit più adatto a voi in base a quelli che sono gli obiettivi che volete raggiungere ultima slide ma non sicuramente per importanza gli incentivi carriera questo è un piano carriera scalabile in maniera assolutamente meritocratica e questo fondamentale uno dei motivi per i quali mi sono innamorato di questa attività ora non so se sta capitando anche voi così come è capitato a me la prima volta magari vi è caduto l'occhio lì in bassa destra su quel diamante decisamente invitante ma l'altra domanda che l'altra cosa che mi aveva colpito la domanda che poi mi sono fatto di conseguenza è stata come mai da executive a zaffero non vedo dei compensi beh allora innanzitutto dobbiamo sapere che questo è uno dei sei metodi di guadagno che l'azienda mette a nostra disposizione ma soprattutto che da executive a zaffero noi andremo a fare quello che è un lavoro di base per andare a costruire le nostre fondamenta solide il nostro team che dallo zaffero 25 in poi ci darà accesso e qui arriva la parolina magica a quelle che sono delle entrate automatiche perché quelle che vedete qui nella slide sono delle entrate che entrano mensilmente quindi sono compensi mensili in maniera assolutamente meritocratica e in maniera assolutamente automatica quindi sono slegate dal tempo che noi andiamo a impiegare nell'attività ora vado interrompere la condivisione del slide e torno da voi perché adesso come dicevo all'inizio è arrivato un momento molto importante per quelle persone che sono rimaste collegate fino a questo momento c'è la possibilità di ascoltare la storia di un imprenditore di successo un ragazzo che ha soli 29 anni che arriva dal settore della moda dove ha lavorato come dipendente e ha capito molto presto che quella non era la sua strada la strada di una persona ambiziosa determinata vogliosa di avere decisamente di più dalla vita una persona affamata con voglia costante di crescita professionale personale e grazie a questo business lui ha anche potuto riprendere a fare una cosa che prima non poteva più fare a causa di quello che era il lavoro da dipendente ovvero viaggiare infatti in questo momento lui è collegato direttamente da dubai dove è ormai in piatta stabile da qualche mese dove si fermerà anche per i prossimi e questo grazie a quelli che sono i risultati traguardi che lui ha raggiunto in questo in questo periodo in un breve periodo di tempo soprattutto perché è considerato un vero e proprio record breaker all'interno della nostra community è un assoluto punto di riferimento lui guida il nostro fantastico team tutti i giorni sul campo è sempre presente è sempre sul pezzo perché è una persona che vuole fare la differenza che soprattutto vuole aiutare gli altri a fare la differenza io sono assolutamente certo che tutte quelle che sono le sue qualità i suoi grandi valori le sue competenze che lo contraddistinguono lo porteranno a scrivere pagini importantissimi importantissime di questa industria di questo settore io non voglio togliergli altro tempo sono davvero emozionato lascio la parola al nostro super marco riccardi buonasera a tutti mi sentite fatemi un cenno col pollice in alto se mi sentite fantastico matteo grazie mille per le splendide parole è sempre un onore poter essere presentato da te sai che la stima è assolutamente ricambiate ti faccio i complimenti perché anche questa sera hai fatto una presentazione veramente perfetta facci complimenti anche a ognuno delle fatemi controllare perché 103 persone che sono collegate questa sera veramente questo è un ottimo modo di poter iniziare il 2021 alla ricerca veramente di qualcosa di nuovo qual è il mio obiettivo questa sera faccio qualche premessa non è andare ulteriormente nello specifico nel tecnico dei prodotti o dell'azienda matteo è già stato eccezionale e sono sicuro che la persona che ti ha invitato qua questa sera a materiale informativo a sufficienza per poterti dare tutte le informazioni che ti servono non voglio neanche stare qua a dirti quanto ad oggi l'online sia la realtà più sicura nella quale è quasi obbligatorio aver messo un piede al giorno d'oggi e ultima premessa spero che il mio entusiasmo non ti dia fastidio però devi sapere che oggi non sono il classico invasato e motivatore oggi sono stato questa mattina qui a dubai a una riserva naturale ho accarezzato un po di tiglie sono ancora gasato come una mina quindi ti chiedo scusa se questo entusiasmo dovesse darti fastidio però sono sicuro che mi capirai ti racconto brevemente la mia storia ho 29 anni sono nato e cresciuto a milano mia famiglia semplicissima mamma e papà dipendenti mi hanno sempre trasmesso l'importanza del rimboccarsi le maniche del lavoro duro e mi hanno sempre trasmesso questa questa visione studia laureati e prendi quel benedetto pezzo di carta trovati un lavoro sicuro e costruisci la tua vita e così ho fatto ammetto di aver mancato la parte del pezzo di carta non sono mai stato un fenomeno negli studi lo facevo abbastanza forzatamente proprio forse per far felici i miei genitori quando però a un certo punto sono arrivato a capire che non era il mio percorso ho abbandonato gli studi al di di quello che puoi essere puoi capire sia stata la reazione a casa ho iniziato a 19 anni a lavorare primo lavoro che ho trovato non sapevo cosa volessi fare da grande quindi quello che mi è capitato l'ho accolto e ho iniziato come commesso in un negozio di moda ok classico lavoro 5 barra 6 giorni su 7 orari più o meno fissi sai che comunque adesso ormai non ci sono più gli orari standard ma si è quasi aperti 24 ore su 24 con l'avvento dell'online però mi divertivo mi piaceva e avevo un bel contratto l'entusiasmo iniziale mi ha soprattutto dato una bella spinta all'inizio poi col passare del tempo quello che ho iniziato a vedere sono stati un po i limiti del sistema lavorativo che mi aveva portato a scambiare il mio tempo per denaro non so chi quanti qua dentro stiano scambiando il proprio tempo per denaro però io ho iniziato a farmi un po di domande dopo un po di tempo per esempio ho notato che non avevo più tanto tempo da dedicare alle cose che veramente amavo parlo della mia famiglia della mia amicizia degli sport che amavo praticare del viaggiare che per me è una delle passioni più grandi che ho avuto la possibilità di coltivare fin quanto studiavo e quando poi iniziato a lavorare che ho smesso quasi in tronco e questa cosa mi ha fatto riflettere perché fermandomi a pensare un attimo mi sono trovato con a vent'anni con la routine dei miei genitori che avevano 45 50 anni e se guardavo me nei successivi 5 10 15 20 anni non vedevo una routine particolarmente diversa perché già non avere tempo appena iniziato detto ok ma se non cambio qualcosa cosa può cambiare sono certo che non ti sto dicendo cose nuove però sulle quali se magari riflettiamo stasera possiamo veramente dare una svolta già subito a partire dall'inizio di quest'anno e cosa ho fatto quindi ho iniziato a guardarmi intorno per capire bene quale potesse essere una soluzione all'inizio cambiavo azienda non so se ti è mai capitato di sentire qualcuno dirti se vuoi crescere devi cambiare azienda ecco io l'ho fatto all'inizio crescevo magari di 100 150 euro in busta paga ma poi non cambiava niente così ho pensato cambia sistema e come te mi sono trovato una sera a una presentazione non c'era matteo a presentarla quindi non ho avuto la fortuna di sentire una presentazione così precisa sono uscito che non ho capito niente onesto niente cioè ho visto una grande azienda fantastico ho visto dei prodotti che penso che tutti gli uomini qua dentro mi possano capire quale interesse possa aver avuto io all'inizio di una presentazione del genere verso i prodotti una cosa mi ha colpito particolarmente cioè avevo percepito che di fronte a me avevo un sistema meritocratico facilmente accessibili perché per aprire un'attività imprenditoriale ci vogliono molti più capitali e qua sono veramente pochi quelli che servono ma che mi avrebbe permesso di tornare a decidere per me stesso perché perché avrebbe una volta costruito questo sistema mi avrebbe dato la possibilità di scollegare i miei guadagni dal tempo che ci cosa mi ha abbastanza colpito cosa ho fatto appena finita la presentazione ho cercato informazioni e sono andato dalle persone più vicine tutto contento tutto felice perché non conoscevo nulla di tutto questo mi hanno parlato di entrate automatiche io conoscevo solo le uscite automatiche fra affitto macchina quindi per me era una cosa tutta nuova ho avuto pareri abbastanza drastici ti dico la verità cioè quasi da ammazzarmi cosa stai facendo ma no occhio fai attenzione se ti chiedono soldi no sentite di ogni poi cosa ho fatto mi sono calmato un attimo detto ok voglio bene a queste persone fantastico ma sono dei professionisti del settore hanno avuto esperienza hanno avuto successo quando la risposta è stata no e ho capito che non è non erano una fonte attendibile sono andato a cercare dove erano le fonti attendibili e ho scoperto che era un mondo veramente all'avanguardia dove veramente si poteva fare la differenza ho iniziato part time perché questo è un altro vantaggio non ti obbliga a lasciare il tuo lavoro principale puoi tranquillamente iniziarlo a gestire nel tuo spare time e poi mano a mano aumentarne l'impegno fino a che nel 2018 ho avuto indovina cosa la possibilità di decidere grazie ai risultati che siamo riusciti a ottenere quel gruppo ho avuto la possibilità di decidere di rinunciare al mio primo lavoro e dedicarmici full time ricordo ancora il giorno in cui ho rassegnato di dimissioni è stata un'emozione incredibile che auguro a ognuno di potersi sentire quasi veramente di libertà e da lì poi è iniziato la costruzione vera e propria di quella che è la nostra community ora una considerazione da fare tutti insieme siamo in un periodo molto particolare il covid che è apparso un po dal nulla inizio dell'anno scorso ha fatto una cosa ha compresso dieci anni in uno cioè quello che stava succedendo la digitalizzazione magari sarebbe successa in cinque anni dieci anni l'ha compressa e l'ha fatta in uno cioè ha forzato questo spostamento nel digitale quindi dobbiamo essere tutti molto bravi a capire che dobbiamo essere altrettanto veloce ad adattarci perché quello che dice darwin è non è la specie più forte che vince ma quella che si adatta più in fretta quindi è un momento molto particolare dove la situazione va presa sul serio anche perché ricordo che ai tempi finita la presentazione un imprenditore mi disse una cosa guarda marco ci sono quattro tipologie di persone a questo mondo scegli tu quale vuoi essere e trova il veicolo migliore che ti possa permettere di diventare quella persona io non le conoscevo magari sì le conoscevo ma non ci avevo mai ragionato quindi penso che sia un qualcosa di positivo da condividerti questa sera prima tipologia di persona se vuoi segnartela su un pezzo di carta potrebbe fare la differenza sono coloro che non hanno né tempo né denaro cioè coloro che magari hanno due tre lavori lavorano tanto 10 15 ore alla settimana si spostano corrono da una parte all'altra della città fanno orari pazzeschi in fila la metro tutti i giorni tornare a casa stanchi morti per mantenere se stessi e la propria famiglia per poi arrivare a fine mese con l'acqua alla gola e quindi costretti così il mese successivo a ricominciare da capo prima tipologia di persona io non avevo due tre lavori però mi ritrovavo abbastanza in questa prima tipologia sono onesto seconda tipologia coloro che hanno tempo ma non hanno denaro un esempio potrebbero essere gli studenti che puntano a laurearsi e sappiamo tutti è difficile fare un percorso di laurea a affiancarla un lavoro oppure qualcuno che in questo momento fa fatica a capire quello che è l'andamento del mercato tanti lavori stanno scomparendo lavori a cui eravamo abituati e quindi sta facendo un po fatica a trovare il suo posizionamento del mercato quindi a tempo magari a casa magari in cassa integrazione e non ha denaro non sa cosa fare non sa come poter trovare una soluzione seconda tipologia di persone terza tipologia di persone chi non ha tempo ma ha denaro quindi posso parlarti di imprenditori che hanno grandi realtà imprenditoriali investono gran parte del tempo della loro giornata all'interno della loro azienda accumulano un sacco di utile un sacco di fatturato ma poi alla fine della giornata il tempo per poter usufruire di quel denaro e passare il tempo con la propria famiglia è pochissimo io ricordo i miei genitori non erano imprenditori non sono imprenditori però avevano e hanno pochissimo tempo durante il giorno non ho tantissimi ricordi passati con i miei genitori e questa è una cosa che voglio assolutamente evitare quando avrò una famiglia quarta e ultima tipologia quella che io non conoscevo coloro che hanno tempo e denaro coloro che hanno capito che il mercato è cambiato e che si sono costruiti un sistema o stanno utilizzando un sistema già costruito a loro vantaggio per scollegare le proprie entrate dal proprio tempo e fare in modo così di avere sia il tempo sia le risorse per poterne godere appieno tempo per poter passare con la propria famiglia le proprie passioni non so ad oggi tu dove ti ritrovi in queste quattro tipologie io ti ho detto dove mi ritrovavo i tempi non è quello l'importante una cosa è certa tutti la prima la seconda e la terza tipologia vogliono disperatamente diventare la quarta tipologia avere tempo e denaro e questa sera quello che tu hai visto presentato in maniera perfetta da matteo è esattamente uno di questi sistemi che ad oggi è una realtà che ti può permettere gradualmente di spostarti da qualunque tipologia tu ti trovi adesso all'ultima la quarta se sei già nella quarta fantastico poi consolidarlo ulteriormente perché abbiamo un sacco di imprenditori nella nostra community che hanno diverse entrate che la rafforza le rafforzano ulteriormente posizionandosi online io non ebi dubbi volevo assolutamente diventare la quarta tipologia e quando ho capito che questo era il sistema giusto ero affiancato dalle persone giuste che mi hanno preso per mano mi hanno accompagnato verso veramente imparare da zero un'attività della quale io non sapevo niente perché non capisco niente di marketing di comunicazione non avevo una laurea non la laurea quindi avevo bisogno di supporto ho capito che avevo più da perdere a non iniziare piuttosto che a iniziare quindi il consiglio che ti do questa sera è anzitutto ringrazio la persona che ti ha invitato qui perché ad oggi trovare una persona che ti presenti l'opportunità di fare qualcosa di importante insieme è rara e va veramente ringraziata e tenuta vicina perché sono poche le persone che fanno un gesto di questo tipo seconda cosa chiede alla persona che ti ha invitato tutte quelle che sono le informazioni che ti possono essere utili per capire cosa possiamo fare insieme tutti insieme in questa community e come tu puoi raggiungere quelli che possono essere i tuoi obiettivi se ne hai altrimenti li costruiremo insieme non è un problema ultima cosa ad oggi un requisito fondamentale di questa nuova economia è farsi le domande giuste e la domanda giusta con la quale ti voglio lasciare ad oggi anzi le domande giuste sono due la prima non importa quale tipologia di persona tutti ti sia ritrovata delle quattro che ti ho dato ma se ad oggi grazie al sistema che ti ha presentato matteo al piano carriera riuscissi ad equivagliare le entrate che hai dalla tua prima attività ma rendendo le automatiche faresti le stesse cose che fai tutti i giorni o vivresti più tranquillo o tranquilla o ti toglieresti qualche sfizio in più o dedicheresti il tuo tempo qualcosa di più importante prima domanda seconda e ultima domanda questa rispondici con calma riflettici ad oggi non devi chiederti e uso il in maniera molto decisa non devi chiederti se vale la pena se è opportuno o no avere un sistema online la domanda da farti oggi è quando inizio ad avviare la mia attività online perché non avere ad oggi un'attività online è una decisione chiara di voler rimanere all'età della pietra ok spero di averti trasmesso un po quello che vogliamo fare con la nostra community vogliamo veramente cambiare il mondo rivoluzionare quella che è l'industria di questo settore segnati anche sul calendario la data del 24 gennaio perché tutti inizieranno a parlare di noi ancora più concretamente ad oggi siamo la community più forte in italia per diventare la più forte in europa abbiamo anche bisogno del tuo aiuto del tuo supporto quindi ti aspettiamo per fare la differenza tutti insieme io ti mando un grandissimo abbraccio da dubai e ti faccio un grande in bocca al lupo per un 2021 che faccia un po scioccare il mondo